Oggi volevo raccontarvi una storia piena di energia o quantomeno con brio e allora guardando ho trovato questa storia che anche se il prodotto non è direttamente un prodotto con energia ma il nome in qualche modo indiretto lo è. Più precisamente il nome dell'azienda è stato scelto dai fondatori Pito Imerio e Domenico Tacchella che hanno fondato l'azienda nel 1965 nei pressi di Verona ed è stato scelto perché corrispondeva al modello di un'auto di una bella auto sportiva che tutti noi conosciamo. Forse qualcuno ha già capito di chi sto parlando vi svelo un altro dettaglio questa azienda realizza dei pantaloni ed è tutta italiana realizza dei jeans e il modello la marca dell'auto di cui parlavo è la Porsche il modello Carrera avrete quindi capito che sto parlando della Carrera.